visita dello scrittore, ossia delle città visitate e l'importanza del modo in cui si disegna queste. Contro le altre città egiziane come Alessandro, Nostra Metrufola, Serbano, lo scrittore ha riferito che era l'attirante le sue elementari negli anni 60 che ha iniziato a viaggiare, mentre prima erano limitati semplicemente ai vecchi. Il dottore ha con l'impressione che questo libro sia un incertidio sui viaggi e le tante situazioni che si possono incontrare nelle città e alcuni libri legati ai viaggi, come il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, pubblicato nel 1942 e La morte a Venezia di Tom Mann, pubblicato nel 1921. Un orso per gli sessori, ossia la stanza degli ospiti, lo scrittore incoraggia il lettore a viaggiare perché ci sono cani di luoghi come si cambia anche nella vita, conoscere un nuovo luogo e conoscere come se fosse una nuova vita. E stabilisce un legame tra il piacere del viaggio e la ricerca elettrica del viaggio stesso, della vita, la ricerca del viaggio inteso come prendere un aereo e andare. E questo cita l'esperienza che il viaggio ha regalato agli eroi dell'accelebre libro Nellina e una notte, al fine dell'aulina. E come how he cresce e crede che questo libro non sia altro che un libro sugli occhi e senza il viaggio in sé compiuto da ogni personale, quindi eroe della propria storia, i fatti strani, i miracoli o anche semplicemente i delideri, non avrebbero potuto essere l'estima versale del racconto in sé. In quasi 250 piccole pagine l'istruttore crede che il viaggio sia una questione per unire l'umanità perché i luoghi del viaggio sono pieni di avventure. In questo contesto ricorda il significato del poema di Itata, ossia di Omero, del poeta greco Costantino Cavazzi, il quale indica sempre che il tesoro sarebbe stato scoperto durante un viaggio, quindi il tesoro della vita è nello a cercare durante un percorso che può essere un viaggio fisico mentale. Nel libro del El-Kah, o Kanahari, ci sono molte le metafore nelle indicazioni in cui l'istruttore ritorna a testi ispirati che rimangono sempre nella memoria dell'umanità. e ci incitano a riflettere sul significato del viaggio in sé. Un viaggio proprio come percorso. Puoi trovare quegli consigli e dettagli dati dall'autore agli odiatori che possono essere messi sotto la forma di citazioni come la valigia deve contenere alcune magliette colorate che vanno con consigli oppure ad un altro tipo di stato. Posso acquistare tutto ciò che riguarda l'igiene personale, ma appena arrivo quindi non c'è bisogno di portare qualcosa di questo tipo in borsa. Non dimentico i libri di tutto il formato per avere più spazio nella mia borsa. Da Radio Cairo vi abbiamo appena presentato nel mondo della letteratura un test a cura di Mario Infalzi presentato per voi questa sera da Nazma Nassar. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.